Una grande soddisfazione Davide Zappella, questo gol, il secondo gol della gara di questa sera, che ha chiuso definitivamente i conti. Vogliamo raccontare innanzitutto l'azione? Sì, sono felicissimo per il gol fatto, sono felicissimo per la squadra che ha vinto. È stata una bella azione, abbiamo fraseggiato e alla fine ero davanti alla porta, non potevo fare altro che tirare, è andata bene. Sono contento, sono contento della prestazione, sono contento dell'atteggiamento che abbiamo avuto e adesso testa a lunedì contro il Modena. Hai segnato quando Auteri dopo alcuni cambi, soprattutto l'uscita di Pontisto, ti aveva schierato più in avanti sull'esterno? Sì, mi aveva spostato mezz'ala in quel momento, ma a prescindere quello che chiede il mister, comunque quello di andare a chiudere con gli esterni. Sì, magari era una posizione avvantaggiata rispetto all'esterno, che ero più largo, lì ero più centrale, mi sono trovato nel posto giusto, al momento giusto e bravo clemenza a premiarmi. Cosa hai visto quando il pallone è entrato in porta? Cosa hai visto e cosa hai pensato soprattutto? Sono stato molto felice, ovviamente non mi capita tutti i giorni di segnare, è una cosa che ricerco, però non capita tutti i giorni, quindi molta felicità per me, per i compagni, per tutti. Per te è un gol importante, dicevi non segno tanto, terza rete stagionale, seconda in campionato, quella importantissima e bella nella gara di andata con l'Ancona e dopo quella in Coppa Italia con il Grosseto. Esatto, esatto, non sono uno che segna tanto come si è visto, però sono contento di aver segnato oggi. Una vittoria, quella di questa sera, anche per rispondere alle critiche dopo il pareggio di Fermo, dopo la brutta prova di Reggio Emilia e dopo la gara sfortunata con la Virtus Santel. Sì, noi ovviamente, come ho già ripetuto io, come ripetono tutti, diamo il massimo ogni partita e cerchiamo ovviamente di vincere ogni partita, poi alcune ci vengono meno bene di altre e oggi non c'è stato niente da dire. Siete però consci che fino a questo momento, adesso al di là anche della vittoria di questa sera, Pescara ha dato meno di quello che si pensava, di quello che i tifosi speravano potesse dare. Secondo te, Davide, perché è successo tutto questo? No, perché non spetta a me dirlo, però sì, sicuramente siamo un gruppo molto forte, fatto di giocatori molto forti e potevamo sicuramente dar di più, ma ora fino alla fine daremo il massimo, come abbiamo sempre dato, ma cercando di vincere, vincere sempre. Credete ancora nel terzo posto? Sì, certo, fino alla fine. Per chiudere, Davide, il lunedì c'è questa gara di Modena, una gara che era già difficile alla vigilia della giornata odierna e che probabilmente ora sarà anche più difficile per via della sconfitta della Reggiana. Modena, capolista solitaria, troverete un ambiente molto caldo e una squadra molto carica. Sì, non ci spaventa questo, andiamo lì per andare a vincere come ogni partita senza nessuna paura.